Claudio Ricci, amministratore delegato di Nola Business Park CIS Interporto Campano. Quanto sono importanti eventi come questo e qual è il ruolo di Nola Business Park CIS Interporto? L'importanza può essere una valità, però è fondamentale. Sono occasioni sia di relazioni e quindi commerciali per tutti i partecipanti, sia un grande valore di identità e dimostrare che sul territorio esiste una forza, forse poco conosciuta, una forza imprenditoriale decisiva, molto presente nel segmento specifico del fast fashion. Questo aspetto è particolarmente evidente nel caso del Nola Business Park, dove sono localizzate un numero molto elevato, una quarantina di aziende che sono leader nel settore del fast fashion, retail, brand e franchising. Quindi siamo particolarmente lieti di aver, come Nola Business Park, lanciato un'iniziativa insieme a Departner l'anno scorso, l'anno zero, che è stato un successo, è stata quindi scalata ed è diventata un'iniziativa sponsorizzata e promossa dalla Regione Campania, insieme a lì c'è all'Unione Industriale una serie di partner molto qualificati, quindi siamo particolarmente lieti dell'evento, siamo convinti che avranno effetti positivi per l'economia locale.